Buongiorno Ci sono bontà un po' pasticciate, pesanti e c'è la bontà unica dei pavesini Uova, farina, zucchero senza grassi aggiunti Per questo è sempre l'ora dei pavesini Arrivano i finanziamenti su tutta la gamma Ibiza Fino a 13 milioni in 24 mesi a tasso zero Nuova Ibiza Slalom, Seat, fino in fondo E oggi sulla gamma Seat potete risparmiare fino a 5 milioni Supplico, un altro tango e poi basta Fin du Sacrato Tango, il primo croissant caldo con irresistibile ripieno di gelato Solo un morso Ma non ti slego? Tango, per gli amanti del croissant e i maniaci del gelato L'avventura, il divertimento e un tuffo nel Palablu, il delfinario più grande d'Italia Abre Gardaland con il nuovo Palablu Ma i saponi? No, è Topexan contro la tendenza ai brufoli Ma tu non ne hai? Certo, uso Topexan tutti i giorni Guarda, i brufoli sono causati da impurità ai batteri Topexan pulisce più a fondo del sapone e test clinici dimostrano che è due volte più efficace sui batteri Niente male, eh? Topexan, fatti bello Topexan batte il sapone nel combattere la tendenza ai brufoli Eccola là, neanche sembra un'antenna Quando l'hanno messa sei mesi fa, c'era una folla che neanche alla festa del paese Cavolo, ma mai sai dell'Omnitel? E tu? Che ne sai? Ah, non giuro, lo sanno tutti La tecnologia digitale GSM E l'ingegnera a spiegarmi che i Omnitel hanno scelta grandi aziende Ha un segnale pulito, si possono mandare fax E vai, Don Giulio! E non si può cronare Doppie punte Prima dovevo tagliarle Adesso è difficile trovarle Il mio balsamo Pantene con la sua formula alla provitamina Che penetra fino alle punte Lascia i capelli più morbidi Sani Balsamo Pantene Per capelli così sani che splendono Su c'è una festa C'è gioventù C'è vù di aia Sì? I virustel di pollo e tacchino Saporiti e leggeri Ecco gli altri vudi, ragazzi Scusi Chi era? Nessuno, Fiorellino Arturo? Arturo! Se c'è aia C'è gioia Guardali qui Tutti con un veicolo commerciale Fiat nuovo di Zeca, eh? Ma non dicevate che voi al vostro vecchio furgone eravate troppo affezionati? E invece Privati, imprenditori, aziende Tutti quanti non hanno potuto resistere D'altronde chi vi fa delle offerte così Per un vecchio furgone anche se vale zero? Fiat ovviamente Che in alternativa vi offre anche un finanziamento mai visto Operazione Buon Lavoro per i Veicoli Commerciali Fiat L'Italia che lavora Da oggi è in festa Oh! Oh la 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 Oh cichi-la-chi-ti-po-ci-chi-ti-chi-la-ba-ci-cam-a-fi-ca-pa-la-chi-ca-pa-ti-ch-ca-pa-ti-ca-pa-pa-pa-pah In fiore! In fiore ti sto proprio bene e qui che danno le ali ce l'ha la marca da bollo dovrebbe scendere fino al pian terreno e lì se la fa dare ha la faccia del pian terreno bene quante buone azioni ha fatto pure ho offerto un po di caffè buono buono qualità oro tenditore con tutto il caffè che mi ha regalato ma questa volta che cosa festeggiamo la barba le ali oh finalmente vola sì sì volo basso radente ma pietro queste mi hanno dato sono un po piccoli e non l'ho detto ormoni impazziti sostanzialmente il mio quadro clinico se morirò per eccesso di masturbazione colperanno te ma la realtà è che ti hai inseminata magnificamente finalmente soli due iomo ecco il vostro iomo frutta così frutta che non c'è bisogno di aggiungere aromi e yogurt con latte fresco e fermenti lattici vivi e attivi la perfetta armonia tra consistenza e freschezza con tutta la passione di chi fa yogurt da sempre gli uomo c'è la vita dentro oppure seta o niente la standa un mondo che vale con la garanzia nissan di tre anni o centomila chilometri puoi guidare senza problemi oltre l'anno 2000 la garanzia garantisce nissan mamma mia i cameli sono diventati mucche me l'avevo detto di non dargli le galatine ma gli piacciono tanto galatine sperlari quando il latte fa la caramella se tornate i cameli ve lo do ancora michetti mulino bianco due leggere sfoglie di grano per farli così originali fragranti e gustosi michetti mulino bianco chi mangia sano trova la natura massaggio verticale massaggio plantare sauna una doccia multifunzioni teuco ti da questo e molto di più doccia multifunzioni teuco tutta la vita che vuoi lei faceva la parte di quella ragaccia in quel film quello con quel tizio grazie 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 a tutti.